Abituarsi al cibo estero per degli italiani è molto difficile Siamo abituati molto bene quindi la pasta qua diciamo che è un po' scotta però la carne che ho mangiato finora non mi dispiaceva Fanno molto bene le cose fritte Beh la frutta è buona, la mangio tutti i giorni C'è il melone, cocomero, macedonia Qualcosa da mangiare alla fine si trova sempre Non c'è un po' scopo, non c'è un po' scopo